Hey love che fanatici, io sono TheLars e bentornati in questo nuovo episodio degli acquisti Pokémon del mese, mese di novembre! Anche questo mese purtroppo siamo in ritardo, ma non fa niente perché come vi avevo promesso qualche giorno fa su Instagram, era su Instagram, oppure nella nuovissima sezione community di YouTube mamma mia grazie YouTube per questo nuovo regalo, magari tra qualche giorno se hai tempo aggiusta anche le feed, no? Se vuoi darti così tanto da fare, comunque come vi avevo promesso vi porterò questo mese due episodi degli acquisti Pokémon quindi avrete questo che è quello di novembre e anche quello di dicembre perché giustamente a fine mese parto, vado in vacanza quindi non comprerò più niente fino a gennaio, non ha senso aspettare gennaio per farvi vedere gli acquisti di dicembre, no? Quindi, ah ah! Siete contenti? Questo anche per rispondere alle persone che ancora mi chiedono Lars, ma perché porti gli acquisti del mese di novembre a dicembre? Perché, scusami, come... cioè non posso farvi vedere gli acquisti di novembre a novembre perché se poi il mese non è ancora finito e io mi compro un'altra cosa il giorno dopo che faccio? Faccio un altro video? È ovvio che devo aspettare il mese dopo Comunque questa volta ho una scusa per essere in ritardo con l'episodio degli acquisti Pokémon No, questa volta ce l'ho veramente una scusa Sapete, no? A fine novembre sono usciti Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna e diciamo che portare ogni giorno, quasi, diversi episodi al giorno, quasi, di Pokémon Ultra Luna ci sono state delle volte in cui ne ho portati anche quattro al giorno tipo, forse, due o tre volte l'ho fatto Insomma, è difficile, ti porta via un po' di tempo quindi, ecco, diciamo che posso essere perdonato questa volta E a proposito di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna parleremo proprio di questa nuova coppia di giochi della serie principale per l'argomento chiave di questo episodio e quindi ne parleremo alla fine perché ci sono anche un pochino di cose da dire anche in relazione a quello che sto vedendo da parte di tutto il resto della community Pokémon qui su internet quindi ci sono un pochino di cose da dire ma intanto procediamo con gli acquisti E come al solito partiamo con le carte Pokémon ormai è consuetudine iniziare con il TCG Pokémon gioco di carte collezionabili e quindi anche questa volta lo faccio propositi per l'anno nuovo lasciare questa scaletta perché va benissimo così forse le carte Pokémon sono tipo la prima cosa che compro ogni mese sono schiavo proprio E a proposito di carte Pokémon l'avete vista? Qual è la nuova espansione che deve uscire a febbraio? Quella nuova? Fantastica Ultra Prisma e ci sono Solgaleo e Lunala di Ultra Sole e Ultra Luna io sto impazzendo vi giuro vi giuro le voglio adesso ma per adesso mi dovrò raccontentare di queste tra l'altro ho questa scatola vicino a me boh saranno almeno tre settimane o forse anche qualcosina di più e oh mio dio devo trovare assolutamente il modo di spacchettarle perché ce le ho qui da troppo tempo ma non riesco a trovare un buco tra Ultra Luna la Pixelmon e tutti gli altri impegni devo spacchettarle subito ovviamente sto parlando delle nuove tin ormai nemmeno troppo nuove perché sono uscite a inizio novembre di Pokémon Sole e Luna e sono quelle di Marshadow troppo bella poi abbiamo quella di Necrozma anche questa e poi ovviamente non potevo mancare quella di oh e questa volta abbiamo tre tin nuove uscite praticamente allo stesso momento contemporaneamente quindi dovrò anche vedere come spacchettarle penso di fare un video in cui ve le apro tutte e tre insieme cosa ne pensate negli ultimi spacchettamenti sono stato un po' sfigato queste però sono tre tin con quattro bustine l'una quattro otto dodici dodici bustine dobbiamo tornare a sculare come al solito adesso passiamo al prossimo acquisto che però è un regalo da parte della mia ragazza Matox che ha pensato gentilmente di regalarmi un bel gioco Pokémon per il DS che io ancora non avevo come molti di voi sapranno chi mi segue da tanto sto cercando di fare tutta la collezione completa dei giochi Pokémon molti di quelli vecchi li ho già recuperati ovviamente poi me ne mancano un po' tra questi anche quelli di mezzo diciamo quelli Nintendo DS possiamo dire tra cui ovviamente gli spin-off e quindi benvenuto in famiglia Pokémon Ranger tracce di luce oh yes l'ultimo Pokémon Ranger tra l'altro io sono un grande fan del secondo capitolo ovvero Ombre su Almia che tra l'altro tutta la mia carriera da giocatore Pokémon ho comprato quando ero piccolo poi l'ho ceduto ad un mio amico in cambio di Pokémon Platinum un vero e proprio scambio ufficiale perché non avevo Pokémon Platinum all'epoca e poi l'ho ricomprato in seguito dovrei averlo ancora incelofonato adesso ho anche il terzo e mi manca solamente Pokémon Ranger il primo che tra l'altro mi sembra ho giocato pochissimo da piccolo che non era nemmeno mio perché non l'ho proprio mai avuto e quindi adesso sono contento di avere questo che poi aspetta un attimo ma Mystery Dungeon lo stanno facendo tipo ogni volta con ogni nuova generazione penso che uscirà anche il nuovo Mystery Dungeon con i Pokémon di settima Pokémon Ranger invece cioè sono anni che non esce uno nuovo vogliamo un nuovo Pokémon Ranger per il 3DS anzi oh no ormai è troppo tardi hanno saltato completamente il 3DS o sbaglio per non parlare poi di Poké Park il mio spin-off preferito ma quello ormai l'abbiamo capito tutti che purtroppo non uscirà mai più e adesso passiamo agli ultimi due acquisti quelli dai quali prende il titolo questo video e quelli su cui si basa tutto l'argomento principale di questo episodio degli acquisti Pokémon ormai avrete capito tutti quanti di cosa sto parlando ovviamente dell'argomento principale di novembre ovvero Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra no aspetta ecco Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna che io ho entrambi in versione Steelbox Oddio ho speso 100 euro praticamente ho speso 100 euro anche quest'anno tutti i negozi come per Sole e Luna l'anno scorso hanno iniziato a venderlo tre giorni prima del Day One molto bene e anche quest'anno come l'anno scorso li ho comprati entrambi solo che l'anno scorso poi a una certa non me ne sono pentito però ho valutato l'idea che forse sarebbe stato meglio comprarne uno solo dato che a una certa Sole e Luna mi hanno annoiato invece quest'anno pensavo di star facendo la stessa cavolata e invece no ed è proprio questo quello che volevo dirvi a inizio video nessuno vuole comprare più o almeno quelli che hanno aspettato a farlo nessuno di loro vuole più comprare Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna e tutti si stanno lamentando di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna dicendo che sono una copia di Sole e Luna con qualche piccola aggiunta in più che non cambia un cavolo che sono uguali che sono noiosi ripetitivi e io non so se pensarla esattamente così cioè allora c'è da dire che con i trailer hanno fatto un lavoro eccezionale perché ne hanno messi pochi e quei pochi che hanno messo erano molto fomentosi si può dire fomentosi non lo so lo dico lo stesso sono stati pochi trailer ma buoni e soprattutto dopo quello delle ultra creature nuove dopo quello del ritorno dei team malvagi con Giovanni e Mewtwo siamo tutti quanti sbam caduti ai piedi di Nintendo Game Freak Pokémon Company e tutto il resto della compagnia me compreso con questi trailer hanno catturato l'attenzione praticamente di tutti ma chi ha comprato Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna al day one poi non è rimasto molto contento almeno da quello che ho avuto modo di leggere su internet ci sono state tantissimissime lamentele sul fatto che Ultra Sole e Ultra Luna siano uguali a Sole e Luna che siano ripetitivi che le novità siano poche e che le diversità siano veramente spicciole e giocando a Pokémon Ultra Luna mi sono accorto anch'io che magari poteva essere fatto qualcosa in più e quelle piccole diversità potevano essere gestite meglio in effetti ma la cosa che ha catturato tantissimo la mia attenzione sono alcuni commenti che mi sono arrivati proprio sotto i miei video di Pokémon Ultra Luna nel corso delle prime parti nel corso dei primi episodi tipo dopo il secondo terzo episodio sono iniziati ad arrivare sempre più commenti di ragazzi che dicevano oddio Lars io sto seguendo la tua serie però mi sono accorto a questo punto che veramente non è cambiato un cavolo rispetto a Sole e Luna sono rimasto deluso da Pokémon Company eccetera non penso che comprerò più Ultra Sole e Ultra Luna volevo comprarli più in là a Natale non lo so non penso che li comprerò più quindi proprio gente che ha notato da subito che i cambiamenti fossero veramente minimi e ha rinunciato proprio all'idea di comprare questi due nuovi giochi quindi abbiamo avuto una lamentela sia da chi li ha comprati subito che da chi non li ha comprati ancora e che si fa adesso? ci sono però anche quelli che li stanno apprezzando e che li hanno apprezzati parecchio sono di meno rispetto a quelli che si sono lamentati ma ci sono io non mi schiero dalla parte né di quelli che si sono lamentati né di quelli che non si sono lamentati perché semplicemente ancora non ho finito Ultra Luna quindi sarebbe stupido e avventato dare un giudizio così pesante adesso per me mi sono ovviamente accorto che le novità per adesso sono pochine tipo il modo in cui ottieni lo starter si è diverso però insomma non è che sia tutto sto gran diverso c'è l'ultrapattuglia ok ma fino alla fine del gioco non è che facciano granché ci sono i dominanti diversi però va bene cioè sono alla fine semplicemente dei pokemon diversi la grossa novità secondo me viene rappresentata dal finale del gioco cioè credo che sarà rappresentata dal finale del gioco ripeto non l'ho ancora finito non lo so però tutto il team Rainbow Rocket il ritorno dei team malvagi il fattore leggendari il fattore ultracreature penso che la grossa fetta di novità vera ci sarà solo alla fine quindi per adesso non mi esprimo però se devo fare almeno un complimento a Ultrasole e Ultraluna se devo dare un punto per adesso a questi due giochi devo dire che mi sto divertendo molto di più a giocare con questi rispetto all'anno scorso con Sole e Luna secondo me Ultrasole e Ultraluna sono un po' più veloci cioè i fatti si susseguono con un po' più di dinamismo di velocità sono più veloci rispetto a Sole e Luna che erano un po' lenti a parer mio solo questo spero che finendo Ultraluna io possa rimanere contento soddisfatto e anche sorpreso perché per adesso dare a questi due giochi solo un punto perché mi sembrano un po' più veloci rispetto a Sole e Luna che erano un po' più lenti mi sembra poco spero di poter aggiungere altri complimenti una volta che avrò finito il gioco e ok poche fanatici direi che per questo episodio degli acquisti Pokémon ci possiamo fermare qui scusatemi se ho approfittato di questo video che normalmente dovrebbe solo farvi vedere quello che acquisto per parlare di ciò che penso di Ultrasole e Ultraluna ma non avevo altro modo per dirvelo perché non mi sembrava il caso di fare un video a parte solo per spiegare questa piccola cosa e quindi ho preso la palla al balzo insomma parliamo sempre di Pokémon e quindi ci va bene no? io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video e noi ci vediamo in un prossimo episodio che a questo punto arriverà tra qualche giorno spero dai che si avvicina il Natale cercherò di essere più buono anche io bye bye ciao